ciao ragazzi benvenuti all'aggiornamento delle 19 ora oggi c'è caldissimo siamo all'interno di questi filari qua questo è il vigneto l'ultimo che abbiamo piantato in pratica e potete vedere sul canale principale ho caricato anche un video di tutte tutte le lavorazioni che abbiamo fatto da quando abbiamo piantato le viti in avanti insomma quando siamo venuti a zapparle eccetera eccetera e vabbè dato che sono ancora piccoline possiamo a tirar via tutti i polloni delle viti a mano non con la spollonatrice perché magari potrebbe rovinarla ecco un attimino e ora siamo qua ma c'è veramente caldo oggi caldo potente va bon dai adesso ci mancano quattro filari finali abbiamo finito fin qua qua questo qua ha fatto il padre va bene dai buona serata a tutti